Come assessore della cultura e del turismo del Comune di Amelia sono veramente lieta di aver avuto l'occasione di collaborare con Massimiliano Ferrara e con Maria Rosa per questa terza edizione del Columbus International Award. È stata un'esperienza bellissima, siamo contenti che Amelia sia stata vista e conosciuta come luogo in cui è avvenuto questa terza edizione che abbia accolto così tanti premiati che hanno portato l'italianità nel mondo. Il prossimo anno sarà l'anno del turismo delle radici italiane del 2024 per cui rivolgerci a tutti gli italiani che sono all'estero anche di terza e di quarta generazione per noi è un grande onore. Grazie.